Buongiorno Orchidea di Milosolo, Orchidea di Medicina per l'Anima, vi ricordo sempre il nuovo libro Orchidea e storia dei personaggi, 369 pagine, a tre gradi pregi, costa poco, semplicissimo, l'ho scritto io. Allora oggi è stata qui una signora a recuperare un paio di orchidee e poi mi ha detto che ha impollinato, ho fatto un paio di impollinazioni di orchidee che sono venute, però non ho voglia di seminare, io non gliele semino, perché io seminavo una volta la sera dopo cena, adesso dopo cena io mi addormento per cui non ho più il tempo per seminare, tanti anni che non semino più, ma è una cosa semplicissima seminare, dice ma è difficile, non c'è niente di difficile, ma proprio niente, è una cosa semplicissima, ma molto molto più semplice a quel che si pensa. Non ci vuole niente, guardate l'attrezzatura di una normale cucina, con un euro di spesa potete fare una decina di vasetti, una decina di semine, costa niente perché potete usare tutte le robe di recupero, i vasetti delle marmellate, del miele, dei sughi, tutti questi vasetti qui di vetro, li puliti bene, disinfettati bene, con la candeggina, poi le risciacquate, sono dei vasetti che vanno benissimo. Per fare il composto potete farlo in casa, abbiamo fatto diversi video anche se come fare il composto in casa con formule casalenghe, se no potete prendere quelli molto costosi, li trovate della Sigma Aldrich, che è una grande multinazionale della chimica, che fa tutti questi composti che si chiamano Fittamax. Io una volta li prendevo, che adesso non c'è più però, da uno di Milano che si chiamava, la ditta si chiamava Micropoli, però adesso mi ha dato che non c'è più, e lui li prendeva, questi prodotti che sono simili a quelli della Sigma Aldrich, ma venivano dalla Duque, che fanno a ditta olandese, costavano decisamente meno, vedete un po' voi, però si può fare benissimo in casa, ci sono degli appassionati che li fanno in casa senza problemi, guardate che non ci vuole proprio niente, se vedete uno che semina, un appassionato che semina, è la cosa più, guardate, avete imparato, vedete uno che semina, avete imparato, fate una cosa, se avete le capsule a seminare, che volete avertevi a seminare, di dove siete? non so, siete di Torino, di Bolzano, di Venezia o di Roma o di Trapani, dite io sono di Trapani oppure di Bari o di quello che volete, che è che sei in giro che semina da queste parti? andate a vedere una volta uno che semina in casa, avete imparato, studiatevi prima un pochettino la teoria così e poi avete imparato, poi chiaramente ci vuole un po' di pratica, perché le prime volte magari sbagliate qualcosa così, per questo è importantissimo, le prime volte non fate mai una sola semina, i semi, le capsule potete conservarle in frigorifero nel reparto della verdura, l'ideale sarebbe in un essiccatoio, un essiccatoio che quello si può fare in casa, cioè non è un essiccatoio professionale, potete prendere delle scatole ermetiche tipo quelle dei biscotti oppure c'è anche di plastica, così che si possono chiudere bene, mettete dentro del silica gel, del gel di silice, lo potete comprare in internet, il gel di silice quando lo mettete nel forno si carica, cioè diventa secco e diventa blu, lo mettete questo gel di silice quando, cioè aspettate che si raffredda, lo mettete nel fondo di questo recipiente e poi gli mettete su, potete, i semi, le capsule, incastrate in carta di giornale, la carta di giornale va benissimo, mi sembra che sia anche, fada anche da digi impettenti, e le appoggiate sopra queste, mettetegli l'etichetta e le potete conservare per un certo periodo, il vero essiccatoio è sotto vuoto, praticamente c'è un affare che si attacca al rubinetto dell'acqua, rubinetto dell'acqua passando, tira fuori l'aria dalla sciccatoio, però anche senza tirar fuori l'aria va bene così si possono conservare per un bel po' di tempo, in modo che quando fate le semine avete lì almeno 3-4 capsule da seminare, e poi come avevo detto, quando avete visto uno che semina avete imparato, ed è semplicissimo, e quando vedete, io, io sono un gran casinista, chi mi conosce lo sa che sono un gran casinista, e non pensavo mai che sarei stato capace di seminare, poi quando sono andato a visitare le CUP la prima volta, e allora vedevi attraverso una finestrella i laboratori, tutti questi biologi, camice bianco, con le mascherine, in ambiente ascettico che seminavano, poi quando ho visto una volta che seminava Franco Popolo in casa e soggiorno con un'attrezzatura fai da terra, ho detto, non lo so che faccio anche io, e lì ho cominciato a seminare, ma guardate, è una cosa semplicissima, per cui questa signora qui, insomma, un po' mi ha commosso, perché dice, oh, è troppo difficile, ma che difficile, è una cosa semplicissima, basta che capite bene un po' il funzionamento, e andate a vedere un appassionato che semina, e avrete imparato, e la più bella cosa, la più bella soddisfazione che può avere un appassionato di orchidee è quella di fare della semina, e crearsi in suo ibrido, che magari non abbia stato registrato, registrarlo a quello di nome di una persona cara, si registrano a Sanders Leeds dell'RHS, la Royal Tigre Society di Londra, e nella registrazione costa, adesso mi sembra che costa 10 stelline, una volta costava 9, adesso mi sembra che costa 10, però avrete una grande soddisfazione, vabbè, a domani.